Sì, sicuramente la vittoria col Trapene ha dato molto morale al gruppo e ora stiamo preparando la partita contro il Crotone e cerchiamo di riuscire a fare risultato per comunque arrivare ai 50 punti per la salvezza. Sicuramente loro sono un'ottima squadra, stanno giocando per arrivare ai play-off e il nostro obiettivo rimane sempre il solito, quindi andiamo giù per cercare di portare punti a casa. Serviva per il morale perché ci girava molto male nell'ultimo periodo, siamo riusciti a fare una bella vittoria davanti al nostro pubblico che ci sostiene sempre e secondo me è la svolta per riuscire ad arrivare al nostro obiettivo. Noi pensiamo alla partita col Crotone, leggo sui siti, sui social network che c'è molto entusiasmo del pubblico, dei tifosi e noi siamo contenti, però noi pensiamo a Crotone e poi da domenica penseremo al Modena. Manca Fabrizio che ha uno stop abbastanza lungo, rientra a preso di Romagnoli e ora siamo tutti a disposizione del mister e il mister farà le sue scelte. Sì, sono soddisfatissimo, sinceramente non mi aspettavo neanche di giocare tutte queste partite, invece ho fatto 29 presenze e sto giocando. Abbiamo avuto un calo fisico e psicologico in questo ultimo mese dove non riuscivamo a fare risultato, adesso è venuta questa vittoria col Trapani comunque di cuore della squadra e secondo me può essere la svolta per riuscire ad arrivare all'obiettivo sempre la salvezza dei 50 punti.